Che l'asilo Sant'Anna di Bodio Lomnago abbia una marcia in più lo sappiamo da tempo, merito delle maestre, del comune, di uno spazio storico accogliente e di una comunità pronta a recepire le nuove traiettorie pedagogiche. Succede anche con gli spazi sensoriali concepiti dall'educatrice e psicomotricista Alice e sostenuti concretamente dalla BCC e dall'impresa Precision. Oggi ci sono solo i tre percorsi, ma in primavera, con la buona stagione, verrà arredato tutto il giardino. Benedetto dal mitico Don Carlo e da Don Walter, salutato dai tanti genitori presenti, il giardino ha assolto da subito la propria missione principale, divertire una truppa di piedini curiosi e mani giocose sui suoi quadrati di sabbia, ghiaia, sedatura, trucioli, erba sintetica, perché la vita è prima di tutto un'esperienza da sfiorare, toccare, scalciare. Facciamo un'inaugurazione che permette ai nostri bambini e all'infanzia di poter incontrare la natura e qui a Bodio Lomnago di natura ne abbiamo veramente tanta.